bentornati all'ampi di tesla oggi parliamo dei tassi di interesse dei finanziamenti offerti nell'acquisto delle auto nuove sul sito tesla sì perché da oggi se acquistate una versione a trazione posteriore quindi sia la model 3 che la model way a trazione posteriore e solo questi due allestimenti godono di un taglio del 50 per cento del tasso di interessi infatti su questi due modelli il tasso di interessi è di circa il 2 per cento rispetto al 4 per cento delle versioni long range e performance perché solo le trazioni posteriori chi lo sa probabilmente ne sta producendo tante e comunque tesla vuole spingere sui modelli entry level vediamo un po quindi che cosa va a cambiare qui parliamo comunque di fc a bank e non tesla direttamente se voi andate sul sito configurate una tesla nuova potete scegliere se pagarla in contanti con il leasing oppure con il finanziamento flex come viene definito cominciamo con il leasing che cosa cambia rispetto a prima ovviamente il leasing prevede dopo una durata che scegliete voi un valore residuo quel valore di riscatto è fisso nel senso che in base ai chilometri che scegliete e agli anni è una percentuale eventuale fissa tabellare presa dal valore a nuovo dell'auto quindi se la tenete più o meno anni o più o meno chilometri è un valore che è tabellare che cosa cambia quindi la rata in questo caso con un finanziamento al 2 per cento anziché il 4 pagherete ovviamente meno interesse quindi la rata sarà più bassa rispetto ai finanziamenti che potevate fare ieri sul sito per quanto riguarda invece il finanziamento flex la cosa è leggermente più complicata e se provate andare a configurare o se siete interessati comunque a questa soluzione vi invito a leggere molto molto bene tutto quello che c'è scritto nel configuratore perché come funziona il finanziamento flex vi permette di scegliere tre o quattro anni ma attenzione il finanziamento completo è comunque di otto anni quello che scegliete tre o quattro è solo la prima tranche del finanziamento quindi cosa significa che voi per tre o quattro anni pagherete una rata un pochino più bassa poi potete scegliere se versare in unica soluzione quello che avanza oppure continuare il finanziamento con una rata leggermente più alta questo è tutto scritto nella descrizione del finanziamento però è importante capire come funziona che cosa cambia rispetto a ieri bene se voi mettete gli stessi parametri di ieri la rata della prima tranche è esattamente identica e quindi mi direte ma allora dov'è il risparmio il risparmio sta nella seconda tranche perché avendo meno interessi nella prima tranche pagherete più quota capitale e meno interessi quindi l'avanzo che dovrete o versare in unica soluzione o rifinanziare sarà di meno quindi la seconda parte di rate sarà più conveniente quanto più conveniente beh diciamo che in base all'allestimento dell'auto quindi se la prendete proprio una model 3 bianca coi cerchi da 18 senza nessun altro optional se prendete una model y magari rossa coi cerchi da 20 con l'autopilot il canciotraino e il i sedili bianchi quindi quella in assoluto più costosa ovviamente cambia cambia anche in base all'anticipo che date in soldoni il risparmio rispetto ai finanziamenti che facevate ieri può variare tra i due e i 4 mila euro più o meno più o meno insomma non è poco diciamo che potrebbe saltarci fuori a parità di costo totale un colore diverso magari un interno bianco oppure l'autopilot avanzato cosa succede se avete già stipulato il contratto avete già ordinato la macchina e siete in attesa per quanto ne sappia io a oggi visto che comunque questa è un'operazione di fca bank e non direttamente di tesla come era successo per la variazione dei prezzi per intenderci non è possibile andare a variare il tasso cosa vuol dire che per andare a usufruire del nuovo tasso è necessario fare un ordine nuovo però prendetela molto con le pinze perché è successo oggi quindi magari domani cambia la policy di fca quindi prendetela molto con le pinze nel caso vi consiglio di contattare più fca che il vostro advisor perché ripeto è un'operazione della finanziaria tesla prende esattamente gli stessi soldi gli interessi sono a pannaggio della finanziaria consiglio allora se dovete ritirare la macchina settimana prossima avete già tutto preparato eccetera 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 non so quanto possa valer la pena rifare tutto da zero quindi eliminare l'ordine andare a rifare un ordine eccetera 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 se magari invece non avete ancora la data fissata per il ritiro della macchina potrebbe essere conveniente perché magari a fronte della perdita delle 250 euro che avete dato come a conto per ordinare l'auto il risparmio concreto alla fine del finanziamento quindi totale potrebbe anche essere consistente di 2 3 4 mila euro quindi questa ovviamente è una valutazione vostra individuale c'è anche da dire che ci sono tante macchine in inventory quindi quelle pronta consegna in teoria da configuratore se oggi ordinate una macchina la consegna è sempre prevista per febbraio marzo quindi potrebbe essere anche vero che anche se annullate l'ordine oggi magari la macchina non vi arriva inizio febbraio vi arriva a inizio marzo però ripeto tutto assolutamente da prendere con le pinze fatevi bene i vostri conti perché ripeto comunque possono essere anche 2 3 4 mila euro di risparmio totale attenzione totale a finanziamento completo se avete intenzione di uscire soprattutto per il flex a metà finanziamento fatevi bene i vostri conti perché ovviamente il risparmio non è così consistente quindi magari potrebbe non valer la pena rifare tutto il giochino comunque andate sul sito date un'occhiata se avete già il contratto paragonate i due contratti e fate le vostre scelte rimaniamo nel settore vendite perché abbiamo i dati di vendita mondiali del 2022 molto molto interessanti allora intanto capiamo quali sono gli obiettivi e qual è lo storico beh la macchina più venduta al mondo è la toyota corolla comunque è una macchina che ha un prezzo relativamente basso è un'auto estremamente diffusa soprattutto nei paesi asiatici e comunque un'auto venduta in tutto il mondo qual è l'obiettivo di tesla sempre dichiarato da ilon già da ormai un paio d'anni 2022 model y l'auto più venduta a livello di incasso quindi revenue ma ci arriviamo a breve 2023 auto più venduta proprio come numero in generale che cosa è successo nel 2022 prima in classifica toyota corolla con un milione e 120 mila esemplari in leggero calo ma siamo lì sempre oltre il milione seconda auto venduta sempre una toyota rav 4 quindi dalla berlina passiamo al suv 870 mila esemplari venduti con un calo decisamente più consistente del 14 per cento comunque in generale il mercato dell'auto è stato in contrazione negli ultimi anni poi abbiamo la serie dei pick up ford quindi l'f 150 l'f2 50 l'f 350 ma soprattutto l'f 150 quindi fondamentalmente mercato americano 787 mila esemplari venduti con un calo del 9 per cento ecco che al quarto posto arriva un'auto elettrica che ha anche un costo medio particolarmente alto praticamente il doppio di toyota corolla eccola model y 759 mila esemplari ovviamente con una crescita dell'88 per cento poi abbiamo la toyota camry 675 mila esemplari questa è un'auto un po più grossa della corolla venduta soprattutto nel mercato americano poi una onda crv quindi un altro suv 601 mila esemplari ed ecco che arriva un'altra tesla model 3 questa non me l'aspettavo in realtà 596 mila esemplari con un piccolo aumento del 4 per cento rispetto all'anno precedente cosa vi dico che l'obiettivo è stato raggiunto perché model y a livello di incasso proprio perché costa il doppio della toyota corolla mediamente è l'auto più venduta al mondo quindi complimenti a ilon che ci ha beccato e ha raggiunto l'obiettivo cosa succederà nel 2023 riuscirà model y a superare toyota corolla diciamo che i presupposti ci sono assolutamente tutti i numeri di produzione ci sono assolutamente tutti quindi non ci resta che darci appuntamento alla puntata 500 e qualcosa dei lampi tra un anno e vedere un po come sarà andato passiamo ai saluti finalmente qualcuno che mi manda qualche foto in realtà ci siamo sentiti estensivamente in questo periodo per qualche consiglio ma finalmente oggi paolo ha ritirato la sua model 3 bianca vabbè te la perdono è presa usata da privato beh complimenti per essertela messa in garage vi ricordo di mandarmi le vostre foto quando ritirate le vostre auto così vi saluto se ne avete piacere e ora veniamo ai ringraziamenti alessandro grazie mille un dovuto ringraziamento per il lavoro di ricerca e preparazione dei contenuti che ci metti a disposizione un giorno avrò il piacere di incontrarti assolutamente sì in qualche raduno a breve vi annuncerò il prossimo comunque grazie mille per il supporto e il prossimo saluto e ringraziamento va a orfeo che mi ha un po esagerato perché mi ha scritto sei un grande fabrizio il più bravo di tutti grazie tutto no non mi pongo assolutamente al di sopra di nessun altro però ti ringrazio tantissimo per il tuo supporto questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao